Quanto alle prostitute? No, ovviamente non ci sono andato, perché il piacere di un uomo è conquistare una donna, non comprarla, perché non è un oggetto. Però qualcuno ha dei problemi pratici. Allora, una volta uscivo, questo è un attento meraviglioso, sulla etica della prostituta. Esco dalla fiera dell'antiquariato di Modena e lì ci sono una quantità di troie meravigliose, generalmente nere. Una del Cameron, bellissima, sorridente, con dei denti bianchissimi, mi riconosce perché stava in Italia da un po' di tempo e mi saluta. Mi metto a parlare con lei, con un gran movimento di automobili, e a un certo punto, preso da tenerezza verso la sua capacità di essere, le do 50 mila lire. Lei le prende e dice, che faccio? Niente, te le tiri, continuiamo a parlare per dieci minuti, ne do altre 50 con il mio autista vicino. Lei dice, allora posso fare qualcosa con lui? Lui dice, no, neanch'io. Lei dice, ma questo non è serio. Io non posso prendere soldi senza fare niente. Non è possibile. Siete poco seri. Dico, ma no, te li abbiamo andati per divertimento. Allora devo fare lo spettacolino. Ha tirato fuori un uccello di gomma grande così e lungo la rotatoria si è penetrata con soddisfazione per pagare quello che aveva avuto. Quindi l'esempio più alto di etica, credo che non ci sia nessuno del governo Renzi che ha dato una prova così alta di moralità, in cambio dello stipendio che prende. Allora, io ho questa sensazione. Cerchiamo di... Altissima moralità. Prendo soldi, devo dare... Allora.